Allora, ciao a tutte e ciao a tutti, nuovo video, Checriccio, come state? Spero bene, allora. Dunque, questo era un video appunto che Criccio per parlare un po' con voi e aggiornarvi un po' delle cose che finalmente sono riuscita a aggiornare. Praticamente è stata un altro po' di giorni senza registrare, ma vabbè. Quindi alla fine finalmente sono riuscita a registrare, anche io oggi. Non l'ho registrato ieri perché ragazze non ce l'ho fatta alla fine e avanti l'ho registrato, sì, perché ho fatto una live. Oggi sto registrando normalmente, senza fare live e nulla, però dopo questo video ne registro un altro, non stasera e ne a mezzanotte perché dormirò come, non so cosa, dormirò e basta. Quindi, forse ci sarà un video domani, non so se farò morning routine o che, ma vediamo, vediamo di aggiornarvi perché voglio fare morning routine, ma sapete cos'è? Perché io, un po' perché ho, come si può dire, sì, la vita privata è quello che è, ce l'abbiamo tutti, ma va. Però, non lo so se ce la farò farvi un benedetto, una benedetta video morning routine. Vediamo cosa mi, cosa mi, come dire, cosa mi, cosa mi gira in testa perché sinceramente io non è che riesco sempre a fare ste morning routine. Posso provarci? Scusate, ma stavo dormendo fino adesso e quindi ci sta che ho sonno, ma non lo taglio, questo video, non voglio tagliare nulla perché se taglio poi non si capiscono per le parole che dico, quindi non taglio nulla. Non ce la faccio a tagliare nulla, voglio essere il più semplice possibile me stessa, scusate se la ho, la testa è un po' tagliata da sta parte del video, ma sto registrando col telefonino, non importa nessuno con cosa registro, ma per specificare perché mi vedete con la testa così. Comunque, cosa ho fatto oggi? Nulla di che, mi ho pulito tutta la casa, vabbè, a parte il letto che non c'è avuto voglia di farlo, ragazze, perché tanto ogni due vetri mi curico, mi addormento, quando mi sento male, se devo andare a letto, mi addormento un po', mi prendo le mie solute goccine calmanti e mi dormo. Stop, non faccio altro. Poi un po' inizio a fare una cosa in casa, ovvero a fare pulizia di casa e poi mi addormento. Sì, ragazze, sto cominciando una terapia per dormire e calmarmi un po'. E vabbè, ragazze, solite cose. E niente, quindi praticamente in questo caso sto cercando di riposare il più possibile e di stare meno attaccata ai social, anzi, ci sto sempre attaccata, ma non 24 ore, 24 ore verso 24, come ho detto nella live. Oggi non ho messo il collirio, caso strano, perché appunto, non so se si percepisce dal video, però non c'ho gli occhi rossi, non so se voi li vedete, non si vedrà una mazza, ma è così. Tra l'altro gli occhi lierci, che vuol dire belli sporchi, ma vabbè, no, non vabbè, perché poi non vedo una mazza e mi si lovide alla vista, e questo io non lo voglio, vero? Ebbè, per carità, già. Quindi, cosa ho combinato oggi? Appunto, abbiamo pulito non proprio tutta la casa, ma ho cominciato dall'angolo della casa, cioè dalla stanza della casa, poi il bagno non l'ho toccato perché era già pulito di suo, anche se è una bella ritoccattina gliel'ho data, con delicatezza, perché non so se ve l'ho detto, ma abbiamo fatto un muratore, non so come chiamarlo, ma io, per me è un muratore, il signore che è venuto, quindi sì, ha fatto, ha piazzato, ha fatto il rimpiazzo di un box nuovo doccia, di un box nuovo doccia, sì. E appunto, non mi sono sentita di rilavare la doccia, fare le cose, di rilavare il piatto dolce, eccetera, tanto era pulito già di per sé, perché quando è venuto, ahimè, purtroppo si è rotto l'impianto della doccia, il box, perché era prima in vetro, poi si come in vetro, per carità, vabbè, mi piange il cuore perché in vetro era carina, ma se si è rotto il vetro, mi dispiace, ma assolutamente no, non se ne parla nemmeno che devo avere una doccia in vetro, che come l'apro mi esplode il vetro, no, neanche per l'idea, quindi cosa ho fatto? Mi ha chiesto di cercarmi, di cercarli un sito dove, sì, un sito dove praticamente c'è un Ottimax, quei siti lì di botte per i bagni e via discorrendo, ma alla fin fine ho fatto per, cioè, no, vabbè, non ho fatto nulla di ciò, ho cercato i siti, ma alla fine gliel'ha cercato il muratore o quel che gli ha detto, no, guardi signora, alla fine glielo vado io a cercare, ho sto box doccia e gliel'ha magicamente venuta a casa il box doccia insieme allo muratore, vabbè, a parte queste stupitate che sto dicendo, ma è una realtà dei fatti perché è stato un muratore stesso, che non faccio nomi, però è così, che ci ha portato a scelta, ovviamente, logico, di mia nonna, a scelta di mia nonna, ci ha portato il box doccia a casa e ora ve l'ho appiazzato, ovviamente è in resina, non so come chiamarlo, retina, resina, no, resina, non mi ricordo, comunque, è una sorta di plastica, è proprio plastica, perché, ragazzi, non me ne vogliate mai il vetro, no, ragazzi, perché come ci è esploso il vetro, ci poteva anche far male a tutti quanti, come, vabbè, non voglio parlarne perché è veramente, no, non mi chiedete come è potuto succedere che è esploso il vetro, perché non lo so neanche io, lo sa solo Dio come il muratore è rimasto integro, perché si poteva fare veramente male, mentre dalla parte c'era il vetro intero, dall'altra parte, come lo stavo inserendo nella doccia, per piazzare il pezzo, l'ultimo pezzo della doccia, gli è esploso il pezzo, quindi, va bene, lasciamo perdere, perché, no, non è per carità di motivi, non sto dicendo che è colpa del muratore, il marzo le mani avanti, no, mani avanti, perché io non do colpa a lui, ma è la doccia stessa, che era troppo fragile, e quindi il vetro stesso era, non so se dire, fine o troppo fine, comunque sta il fatto che si è esplosa, quindi, no, abbiamo preferito più una doccia in plastica, anche lì devo stare attenta, perché la vediamo anche con la pox doccia un po' fragilino, infatti quando entro in doccia, non devo entrare a modo di bisonte, facendo, ballando, perché c'è poco da ballarsela, in doccia si va solo per lavarsi e stop, ovvio, però non mandava di prendere il vetro, appunto, quindi quando entro in doccia, devo essere più delicata possibile, non entrare con un rinoceronte, come facevo prima, che entravo proprio a modo di rinoceronte, no, vabbè, a partire scherzi, non ero delicata, ero solo un po' maldestra, ma stavolta cerco di essere più delicata possibile, non esageratamente delicata, ma più o meno quasi, perché non ho voglia che si rompa di nuovo un'altra doccia, quindi il box doccia, devo starci attenta, ho un po' paura a usare quella doccia, perché non ho paura dell'acqua, paura della doccia, occhio ragazze, non mi mettete in bocca parole che non ho detto, no ragazze, perché veramente è così, io ci tengo a specificare che non ho paura dell'acqua, ma della doccia che si possa rompere, perché è talmente fragilina, che da un momento all'altro la ritrovo in mano, quindi o tra le braccia, vabbè, beh, mi sono padre, e niente, cosa dire, sì, mi è piaciuto alla fine questo box doccia, ma, non lo so, ho qualche perplessità, perplessità sulla doccia, vabbè, niente, e nulla, ah, un'altra cosa, devo dirvi, volevo farvi un video di prodotti finiti, ma sono pochini, però, non lo so se farvelo o meno, facciamo questo video, che diccio, no, meglio di no, sono già 9 minuti e passa, che registro, quindi, che dire, allora, mi è passato alla, come devo dire, nelle pulizie che ho fatto, mi ho, come dire, sì, mi ho strofinato i vetri, ovvero, pulito, non ho strofinato, volevo dire, pulito i vetri, e anche il computer, la tastiera, tutto quanto, vabbè, questo, anche se mi ritrucco, mi ristrucco, ogni volta ci sono le ditate, le cose, tanto poi lo ripulisco, domani, come mi accingo a lavarmi la faccia, eccetera, e a fare colazione, poi, vedo una resettata al specchio della mia, della mia posizione di trucco, ovvero, questo qua della Babyliss, e poi, insomma, almeno il letto lo farò, se non lo voglio fare, almeno le do una resettata, in modo che non si veda tutto il caos che ho nel letto, no, non è un ragazzo, se lo volete sapere, se voi volete sapere, ma sei fidanzata, perché non hai lavoro, allora, le domande, fatemi un video apposito, che io provo a aprire una Ask, però voi fatemi domande, perché non hai un lavoro, o come mai non puoi lavorare, e queste cose qua, scrivetemi tutto qua sotto, nei commenti, nella sezione commenti, che io raccolgo tutte le domande, e appena riesco, vi farò un video Ask, ovvero, rispondo alle vostre domande, perché così, almeno, capisco bene, scusate se guardo di là, ma per vedere se arriva mia nonna, vabbè, per vedere se arriva mia nonna, scusate, comunque, vi dicevo, fatemi tante domande, che io vi risponderò al prossimo video, perché ho visto che vi piace molto chiedermi, chiedermi, a me personalmente, alla cui sottoscritta youtube, youtuber, se, perché non lavoro, o come mai non lavoro, e cos'è che mi portano a lavorare, o vabbè, non per cos'è che mi portano a lavorare, perché non posso lavorare, che vi risponderò, e perché mai, sono sempre in casa chiusa, o anche perché, quando vado a fare i videovlog, faccio sempre le stesse views, tipo, le stesse post, e vi spiegherò anche il perché, ve l'ho già detto, ma ve lo rispondo, sempre in altri video, se mi fate queste domande, vi risponderò, voi non abbiate paura, non esitate a rispondere, a chiedere, io vi chiedo, cioè, scusate, io vi rispondo, però voi chiedetemi, non vi costa nulla, non mi offendo se mi chiedete, che origine ho, che scuola ho fatto, che titoli di studio ho, oppure, non mi chiedete dove abito, perché non ve lo direi mai, vi dirò solamente, di che regione sono, ma credo che, a quasi tutti lo sappiate, ma non credo, ma non vi dirò dove abito, neanche dove, il luogo dove abito, perché alcuni già lo sanno, ma, con i matti del web, non so mai, i matti, mi riferisco, in generale, non dico gli iscritti, gli iscritti, non c'entrano niente, io parlo, che in generale, c'è gente un po' curiosa, su internet, e voglio evitare di, sì, voglio evitare di, strane cose, su internet, quindi, potete chiedermi, tutto tranne che, cose private, ok, punto, niente ragazze, io comunque, ho, stamattina, mi dimenticate di dire, scusate per il bacio, volevo saluttarmi, ma per l'ultima cosa, poi finisco, e saluto, allora, mi ho lavato i piatti, e va bene, mi ho, resettato, ovvero, non resettato, sì, vabbè, spolverato, il mobile della televisione, sia questa, per il computer, l'ho già detto, la tastiera, qua sopra, non ho fatto il video, perché ragazzi, non me la sentivo, non stavo tanto bene oggi, ma neanche adesso sto bene, però, ho voglia di fare video, perché mi piace, è la mia passione, e mi piace, poi, cos'altro, e siamo già a 13 minuti di video registro, ma vabbè, non importa, sì, ho pulito il mobile della televisione e della sala, ho pulito anche un po', con l'angolo cottura della cucina, dove si, dove si cuociono le pietanze, sì, l'angolo cottura, il forno l'ho rimandato, perché tanto lo fa mia nonna, lo potrei fare quasi io, sempre, ma, un po', perché mangiamo e discaldiamo le cose sempre lì, non c'entra niente, quindi, questa può essere anche una scusa, ma, raga, che me lo fa fare di stare sempre lì a pulire il forno, sono due sbattimenti di balls, che non vi dico, proprio, qualche volta ve lo farò vedere come pulisco il forno, anzi, come lo pulisce mia nonna, e poi, al limite, potrò farmi imparare qualcosa a mia nonna, vabbè, è vero che, avendo quasi 33 anni, non è il massimo, che devo imparare certe cose, ma io col forno, sono proprio una, una frana, non è che, anche se sono casalinga, sono brava in tutto, certe cose, ho ancora tanta strada da fare, ma ce la posso fare volendo, non si smette mai di imparare, ragazzi, non si smette mai, vi giuro, e, niente, ragazze, poi oggi, la giornata, non è brutta per niente, anzi, c'era un bel sole, qui, in Sardegna, bellissima, sì, e nulla, e comunque, vi è un bel posto turistico, già avete visto, vi è vivo, ma non vi ho detto, forse ve l'ho detto, ma non me lo ricordo, comunque, non lo dico, dovete capire, dove sono, capire, o provarendo binario, comunque nulla, ciao, mettete like, commentate, iscrivetevi, e attivate la campanella, ciao, a presto, un bacio, seguitemi su youtube, e mi dà nel trattino basso 8, ciao,